Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in FIPILI per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla SR429 di Valdelsa, dove troviamo senso onico alternato e restringimenti per cantieri tra i chilometri 56 e 173 e 2 circa nei comuni di Empoli e Castelfiorentino. Il provvedimento è in vigore fino a fine mese. Voltiamo pagina per il trasporto pubblico locale dal 18 maggio. Sarà potenziata l'offerta del TPL su ferro e su gomma relativamente al Mugello. In particolare sono sei treni che torneranno a circolare dal lunedì, oltre al servizio bus. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!